A distanza di 12 mesi sono confermati i divieti di balneazione sulla fascia costiera battipagliese. A San Cirlo il report annuale dell'ARPAC che ha dato esito negativo nella stessa zona del 2020. Spinetta nuova dunque anche per quest'anno non sarà balneabile. A breve l'amministrazione provvederà ad emettere un'ordinanza di divieto di balneazione per quel tratto nella speranza che i rilievi delle prossime settimane diano esito diverso. Positivi invece i riscontri per quel che concerne gli altri rilievi effettuati nelle aree del litorale a cominciare da Tenuta Spinetta, Lido, Spinetta e località Lago dove la qualità dell'acqua è stata definita buona per la prima area ed eccellente per le altre due.